Quante volte succede che per rialzarsi bisogna cadere? Vero, ma quando per quella caduta si intende tentato suicidio e quando cercarlo è un ragazzo di 20 anni, allora per farlo risollevare bisognerebbe tendergli una mano. Aiuto che è pronto a dare Giovanni Arduini, titolare dell'azienda L'Arte del Riposo in via Pantanelli, che di fronte alla notizia di qualche giorno fa di un ragazzo del nord trasferitosi a Pesaro da poco, senza più un lavoro, abbia cercato di suicidarsi sotto un treno, ha pensato di offrirgli un impiego all'interno della sua ditta. Mi ha toccato la storia di questo ragazzo che, avendo perso un lavoro talmente disperato, tra virgolette, da tentare suicidio. Siccome io sono in una condizione che sto cercando del personale, sto cercando di un ragazzo giovane, questo mi è stato detto che era un ragazzo giovane, ho detto perché non dargli la possibilità di lavorare. Almeno un contatto, un colloquio, poi vediamo se magari c'è la possibilità di fare. Intanto uno spiraglio, giusto per dargli una speranza per il futuro. Il ragazzo, di cui non si conoscono le generalità, aveva deciso di farla finita, scavalcando la recinzione della ferrovia all'altezza di Fosso Seiore, ma poco prima di tentare l'insano gesto si era confidato con un amico. Quest'ultimo non ha esitato ad allarmare le forze dell'ordine, che una volta entrati in contatto telefonico col ventenne, lo hanno trattenuto facendosi indicare il punto esatto in cui si trovava. Raggiunto sul posto, dopo minuti e minuti di dialogo, sono riuscito a convincerlo facendolo tornare sui suoi passi. La mancanza di legame con la comunità di Pesaro, la perdita del lavoro e non sapendo più cosa fare, lo avevano spinto a prendere quell'infausta scelta. Ora però per il giovane potrebbe iniziare una seconda esistenza, magari a fianco di chi vuole dargli un'occasione per riprendersi in mano la propria vita. Ma noi guarda, qui siamo un'azienda a condizione familiare, per cui qua siamo a lavorare io e mia sorella, siamo, poi ho altre due persone, però siamo tutti molto piccoli, come dicevo, un'azienda artigianale, per cui siamo in famiglia, tra virgolette. Ecco, adesso noi vorremmo dargli un lavoro, poi se è una persona, io spero che sia come merita, affetto è, noi non siamo persone fredde, non siamo un'azienda con mille dipendenti che c'è un numero, sia una persona, questo è il nostro concetto, ecco, non so dove questo ragazzo prima abbia lavorato, però noi siamo una piccola realtà a condizione familiare, per cui siamo in famiglia, ecco. Allora le masioni sono in produzione, per cui dovrà imparare logicamente tutto quello che consiste nella produzione di un materasso, per cui anche il taglio dei tessuti, il cucito, il taglio della gomma, tutto quello, anche poi per le consegne, tutto quello che consiste nella nostra produzione. Ecco, noi siamo una piccola azienda artigianale, per cui diciamo imparerà col tempo a 360 gradi. Io sono Arduini Giovanni, titolare dell'azienda L'Arte del Riposo, produciamo materassi, mi può contattare al 338-600-9167, così giusto per un colloquio, poi magari se il lavoro gli piace o non gli piace, intanto gli diamo una possibilità, noi cerchiamo, lui cerca, vediamo di sposarci, insomma.